Quest'oggi la sottoscrizione di importanti protocolli in tema di petrolio. Si riprende un tema caldo, un tema che si spera finalmente possa portare a quello sviluppo sperato da tempo? Certamente non è sufficiente il protocollo di oggi, ma è un passo importante sulla strada anche della trasparenza, della legalità, del monitoraggio di un'attività, di un investimento rilevantissimo fra i più grandi della storia della Basilicata che ha bisogno esattamente di questa attenzione, di questa cura che il protocollo prevede con il coordinamento delle forze dell'ordine, la prefettura, le istituzioni, il sindacato che sono reputo tutti i soggetti interessati a far andare avanti questo investimento in maniera spedita e con le maggiori opportunità per i nostri cittadini e per la nostra impresa. Filippo Bubbico ne è passato di tempo da quel 98 quando si iniziò in Valdagri ad esplorare il territorio. Le opportunità benedetto allora per la Basilicata quest'oggi, siamo nel 2013, ancora un capitolo riguarda il petrolio, questa volta con maggior lungimiranza. Questa volta su un filone nuovo che è quello del rigoroso rispetto dei principi di tracciabilità nella realizzazione di questi grandi investimenti privati che comunque hanno un impatto non trascurabile sull'economia complessiva. A livello nazionale già il precedente governo aveva messo a punto protocolli di legalità da applicare nella realizzazione delle grandi opere attraverso l'attività della direzione investigativa antimafia alla quale è stata delegata la funzione di presidiare, di verificare tutto quanto accade intorno alla realizzazione delle grandi opere pubbliche e oggi quei principi, quelle modalità operative, quei fattori di verifica attraverso la DIA e altri organi e gli organi di polizia nel loro complesso verranno applicati anche agli investimenti che Total ed altri operatori energetici faranno nell'area di Tempa Rossa. Thierry Norman della Total si investe in Basilicata, si investe a Tempa Rossa e il contributo importante delle istituzioni locali. Quest'oggi qui in Prefettura Potenza si parla di trasparenza e voi avete colto questo segnale. Sì, chiaramente questo protocollo è un protocollo per creare le condizioni di trasparenza e come l'ho detto abbiamo sempre dall'inizio rispettato la legge antimafia perché per affittare i contratti avevamo dovuto rispettare la legge e questa parte anche è una parte in cui si deve lavorare in piena trasparenza con l'autorità. Sono dei fondi privati naturalmente impiegati in questo progetto, diamo qualche numero, non soltanto i metri quadri coperti ma quelle che saranno le entità che ne faranno parte al suo interno. Allora, diciamo, tutto il progetto parliamo di 1 miliardo e 600 euro, da qui più o meno 300 sono da fare a Taranto e in Puglia sulla raffiniera che è stata operata da Leni. Poi sul territorio ci sono lavori di trivelazione da fare ancora e per la costruzione dell'impianto parliamo più o meno di 700 milioni di euro.